ciao fans è una domenica mattina abbiamo la mia moto dal meccanico quindi siamo dovuti correre ripari ventola del radiatore rotta avrete visto le storie anche se questo video uscirà d'inverno comunque siamo in macchina stiamo andando prima allo spluga a fare qualche video col drone poi andremo a colico a provare il 790 e poi andremo anche sulle pitbike oggi giornatona giornatona e poi andiamo a bema a mangiare bene direi che dato che tanto da qua fino all'inizio dello spluga è tutta autostrada statale la faremo tutta in coda ci vediamo direttamente quando iniziano le prime curve ciao fans no 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 ma non c'è nessuno caga sotto che non sei altro da che devo fare il tempo con q5 lì c'è quattro scarichi sotto non vorrei dirte eh avrà quei 400 cavalli ma io ho l'assetto fatto meglio che passa quindi in teoria in curva posso far più veloce attenzione occhio amore adesso la riprendo la riprendo me lo sento ah l'ho preso o no bene dai prima non ci va vediamo cosa riusciamo a combinare vai voliamo bene il drone qua a isola l'abbiamo fatto volare adesso possiamo salire verso il passo fermati non so perché Gesù perché la gente deve andare così piano dai cos'è sta roba vaiata verso verso l'infinito sì almeno ci andasse verso l'infinito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti a tutti grazie a tutti